apritevi domanda pensavamo al momento in cui ci si stacca dalla terra va bene si saranno i ricordi ricordi terreni si sentirà la sensazione del cibo il bisogno di bere eccetera ma pensavamo anche a una certa solitudine a una certa magnifica solitudine invece a questo punto ci sembra che arriviamo in un gran salone dove c'è tanta gente magister vi assicuro che non esiste solitudine nell'universo voi avete usato la parola solitudine ed io vi dico che non vi è possibilità di solitudine domanda ed è una bella cosa tu dici magister ma è certo una bella cosa poiché anche nelle fasce meno evolute il rapporto con altri enti emozionali affini crea una possibilità di equilibrio domanda è quello che tu dici con apritevi magister apritevi certamente domanda tu ci vuoi dire con questo che c'è tutta una evoluzione attraverso queste fasce no magister quando mai si ferma l'evoluzione domanda allora praticamente si tratta di tante altre piccole morti e rinascite magister certo sono tante altre esistenze tanti altri trapassi che avvengono con modalità diverse domanda un ente muore qui sulla terra e passa in una di queste fasce secondo la sua spiritualità secondo il livello raggiunto magister poi passa avanti avanza avanza per un motivo molto semplice che a un certo punto l'emozionalità si riduce si va rarefacendo ed acquista la caratteristica di uno stadio successivo superiore e quindi fatalmente l'ente si deve trovare in questo stato superiore perché richiamato dall'affinità degli altri enti che costituiscono questo stato domanda e c'è un momento uguale per tutti in cui si decide di fare un'altra esperienza terrena oppure si può essere in qualsiasi fascia magister in qualsiasi fascia in qualsiasi fascia si può decidere di ritornare perché questa è la grandissima legge dell'autogiudizio e del grande libero arbitrio che esiste nell'universo questo è il libero arbitrio e poi per chiarire ancora un ente avendo rarefatta la sua emozione viene attratto ad uno stadio emozionale dove ci sono emozioni affini alle sue ma forse voi quando procreate una creatura umana non la procreate lasciamo stare il rapporto fisiologico che è la parte meccanica di questo fatto suscitando un'emozione d'amore e l'ente che viene a voi non è richiamato per una emozione d'amore e per una legge di affinità verso coloro che emozionalmente congiunti hanno creato questa condizione così in alto come in basso ricordatelo domanda una chiarificazione nel caso in cui nasce un bambino da certi stati di rapporto senza alcuna emozione amorosa magister ma l'emozione c'è sempre domanda anche diciamo da uno stupro o da una cosa del genere magister anche nello stupro viene un momento in cui la naturale congiunzione dei due esseri crea uno stadio emozionale di richiamo domanda infatti tu ci dicesti una volta che proprio da questi incontri così occasionali lampo diremo possono venire degli esseri magnifici magister naturale e poi il richiamo può essere dato ad esempio dallo stato amoroso ispirativo aspirativo di una delle persone in fondo latente specialmente nella femmina c'è sempre il senso amoroso della maternità è una cosa naturale un fatto latente ed è un'emozione che in certi momenti cresce a dismisura e crea un rapporto di richiamo